Le regioni lamentano l'insufficienza dei fondi sanitari. Com'è, secondo lei, la realtà dei fatti? E' quella lì. C'è una carenza di finanziamento e lo dimostra il fatto che l'Italia spende in sanità pubblica molto meno di Francia e Germania. Continua ad avere un finanziamento inadeguato ai livelli essenziali di assistenza che non possono essere garantiti per due motivi. Mancano le risorse, si distruggono strutture, si chiudono, si accorpano entità organizzate per semplificare e per risparmiare. E manca il personale perché i medici stanno invecchiando e vanno in pensione. Fattori che combinano insieme una miscela esplosiva che comporta per i cittadini una carenza di risorse per potersi curare, opportunità per potersi curare. Le regioni in questo momento stanno dicendo che la realizzazione dei nostri contratti potrebbe ridurre l'applicazione dei LEA ma non è corretto. Non esistono diritti che sono contrapposti l'uno all'altro. Dipende dal governo decidere quale di questi diritti viene compresso e negato. Entrambi hanno diritto di essere, sia i lavoratori che i cittadini hanno il diritto di essere tutelati e di avere da una parte una sanità efficiente e dall'altra contratti adeguati come sono stati fatti per le altre parti della pubblica amministrazione. Cosa si aspetta alla categoria dallo sciopero di dicembre? Lo sciopero di dicembre inizia un'avvertenza in modo molto duro contro una scelta di governo che è non scegliere sulla sanità. Cosa fare per la sanità sembra niente di rilevante, sembra secondario, si fanno altre cose. Si investe per salvare l'Italia, si mettono soldi sulle banche, si mette risorse da tutte le parti meno che in sanità pubblica. Sospettiamo che qualcuno intenda smontarla per restituirla, offrirla al sistema privato, alle assicurazioni e a quant'altro. Che tra l'altro beneficiano anche di detrazioni fiscali che quindi vanno a generare benefici al privato utilizzando la fiscalità generale. Crediamo che questa avvertenza sia protratta avanti se il governo non darà risposte concrete sul finanziamento del fondo sanitario perché quello è lo strumento con cui si dimostra qual è la volontà politica per la sanità di un governo. Andremo a votare, vedremo quali sono gli impegni mantenuti, dopodiché daremo indicazione anche noi cittadini su che cosa devono pensare di chi ci ha governato. Grazie. Grazie. Grazie.